Litigavamo, facevamo cose che fanno gli amici come se ci fosse sempre altro tempo, un altro pomeriggio, un'altra domenica, un altro dopocena. Quando ci vedevamo, ci vedevamo sempre. Patrizia, come il mio gatto o come i gatti suoi e nelle sue poesie, sapeva che esiste la presenza, il resto esiste meno. Il pensiero? Che pensiero? Chiami o non chiami? O per citare lei, ricopiando e non a memoria, è tutto così semplice, sì era così semplice, è tale l'evidenza che quasi non ci credo, a questo serve il corpo, mi tocchi o non mi tocchi, mi abbracci o ti allontani e il resto è per i pazzi. O anche che qualcosa di me possa valere dopo di me, anche solo cinque minuti più di me, mi è insopportabile, io voglio quel che valgo qui con me. L'ultimo capodanno del vecchio mondo, che poi è il solito, Patrizia Cavalli se ne stava sulla poltrona rosa del salotto di casa mia, si era invitata da sola questa volta, ci eravamo viste a colazione perché le avevo portato un vassoietto di agnolotti todini, una ricetta sua da cui era ossessionata e che mi aveva insegnato, nonostante ne fosse gelosa, perché diceva che non impastavo male e non stendevo male la pasta, nonostante fossi lontana dalla perfezione di sua nonna, li toti confortanti e quando aveva chiesto a Marcella, la mia compagna e me, ma che fate stasera? Avevamo risposto, Patrizia una cena, una cenetta e che non mi avete invitato? Aveva altro da fare ovviamente e d'altronde si era organizzata ma proprio come in paradiso avrebbe voluto essere invitata. Forse anche questa è una cosa da Edith Wharton, da età dell'innocenza, l'invito dico. Alle 18 dello stesso giorno mi aveva telefonato e detto, ah oh, vengo alla festa, porto la champagne e così, l'ultimo capodanno del vecchio mondo, che poi è il solito, Patrizia Cavalli se ne stava sulla poltrona rosa del salotto di casa mia e mi guardava commentando gli agnolotti todini, ma che ci hai messo il pecorino? Io negavo, ma invece sì, avevo sbagliato, ci avevo messo anche il pecorino quando ci andava solo il parmigiano. Dunque, negazione ontologica degli agnolotti, non esistono. Allora, la mia domanda, mi chiedevo come questo piatto descrive la poetessa, l'amica e la persona? Io credo che Patrizia si divertisse a insegnare le cose, anche se non voleva, anche se diceva di non avere alcuna tensione educativa. La verità è che mi insegnava con l'esempio e soprattutto era intransigente, non era quelli che ti dicono bravo anche se non hai fatto bene. Lei ti diceva bravo, brava con molta parsimonia, però si divertiva a veder fare le cose e soprattutto si divertiva a pensare che certe cose che non le venivano più facili come stendere la pasta potesse essere fatto da qualcun altro. Quindi in qualche modo gli agnolotti erano, o così, ma ci penso adesso rispondendo a lei, era una specie di prosecuzione di forza, giovinezza, di possibilità, di quella cosa lì. Ecco, io ero più brava della nonna papera a stendere la pasta. Questo perché in fondo l'umano, quando sa fare le cose, è più preciso della macchina. E la cosa divertente è che l'umano non nasce sapendo fare le cose, però le può imparare, si può migliorare, può smerigliare, è un processo la perfezione, non è uno stato. E quindi in quella accettazione che la perfezione sia un processo e non uno stato, di quel processo credo che gli agnolotti fossero una buona sintesi, oltre al fatto che erano veramente buoni da mangiare. Oltre al fatto, questo è concomitante, e non c'entra con Patrizia, ma sicuramente c'entra, che le persone che nella mia casa, nella mia famiglia d'origine, stendevano la pasta erano mio nonno Michele, che era di un'intransigenza superiore a quella di Patrizia Cavalli rispetto allo spessore della pasta, quindi io venivo da una scuola più spartana ancora. E l'altra era mia nonna Tina, che ha fatto due cose grandiose, senza voler insegnare nulla, ma facendole, e io me le ricordo molto bene, e anche le mie sorelle e i miei cugini. La prima è che avendo un'artrite, anzi deformante, molto forte, essendo una donna abbastanza alta per la sua generazione, appena ogni volta che si abbassava, abbassava i pensili. Quindi è arrivata, nell'anno della sua morte, quando ne aveva 89, che il piatto piano non c'entrava, diciamo, tra, non entrava, perfetto, lo dovevi piegare, tra il lavandino e lo scuola piatti. Però in quello spazio, dove lei girava in sedia a rotelle, lei era completamente libera. Aveva risistemato il suo intorno a misura di libertà, senza sentirsi assolutamente limitata. Aveva cambiato le cose perché il mondo intorno fosse tutto ancora disponibile, per lei, perché le sue azioni non dovessero cambiare, nonostante era cambiato il suo corpo. Gesto politico. Quando non si sta bene, non si sta bene e si soffre, e non è possibile fare le cose, in un sistema di regole fissate, o in un sistema di pensili fissati al muro, bisogna cambiarle, per avere le possibilità di vita. E questo è un grandissimo insegnamento politico. Altro insegnamento politico, io entro tornando dall'università e trovo una parete di pannoloni e di traverse, faccio nonna, che hai fatto? C'era uno sconto alla Conad. Non dunque giudizio morale rispetto a funzioni che si possono perdere. Non senso di colpa, non senso di vergogna, senso di possibilità. E l'altra cosa è che facendo fatica a stendere la pasta e a fare i ravioli, man mano che invecchiava, questi ravioli, che erano da prima appunto piccolissimi, come si chiamano, tortellini, poi man mano diventavano sempre più grandi e alla fine della sua vita il raviolo era grande così. Era una specie di divano di raviolo, però continuava a farli. Era cambiato, si scocciava, si stancava, non li poteva più fare così piccoli, non li poteva fare neanche di mezzo dito, non li poteva neanche fare più a forma di cappello del prete, perché usava il bicchiere più grande e il bicchiere più piccolo e li chiudeva, li faceva dei lenzuoli di ravioli, però li ha fatti e anche questo, ti devi adattare a quello che dopo aver adattato il contorno a te, adatta a te, adatta a te a quello che c'è intorno. Ecco, questi due gesti, uno centrifugo e uno centripeto, di adattamento di se stessi alle cose, di adattamento di cose a se stessi, mia nonna Tina lo ha praticato con grande precisione. Ecco, e questo penso che sia stato un grande insegnamento, che è questo, che bisogna guardarsi e guardare con tenerezza. Quando Che Guevara dice, scrive alla figlia, senza mai perdere la tenerezza, sta dicendo questo, sta dicendo che la tenerezza è l'unica forma di libertà accessibile, essere teneri nei confronti del mondo, accettare la propria miseria e quella degli altri, le proprie inesattezze e quelle degli altri, le proprie mancanze e quelle degli altri, cercando laddove possibile di correggerle, è una forma di libertà. La tenerezza è una forma di libertà. E questo a me me l'ha insegnato mia nonna, senza dirmi niente, forse non aveva neanche le parole per dire tenerezza, per dire libertà, non aveva questi concetti astratti, perché essendo una donna di un'intelligenza pura, non si era coltivata. L'insegnamento grosso di mia nonna è stato la televisione italiana. Questo lo ha fatto. Ovviamente avendo una grande intelligenza sapeva distinguere, però è stata anche la prima persona che mi ha detto, vedendo il telegiornale di Canale 5, perché non avevamo la televisione, ha fatto, ma perché mettono questi indici, che so, ste borse? E quella è la prima trasformazione dell'elettorato in consumatore. Quando tu dici, vedevi scendere il Nasdaq che non sa più chi era, e dici, oddio, che mi stanno a togliere dalla tasca. Ecco, questa cosa qui mia nonna la osservava molto, non aveva le parole. Io racconto sempre una cosa che mi ha fatto divertire, mi ha sempre divertito, mi diverte ancora molto, e mi dispiace che adesso sia morta, perché ci saremmo molto divertite. Tra l'altro stavo venendo al Salone del Libro di Torino, quando è morto il 2015, e praticamente un giorno mi fa... Ho visto in televisione un servizio su quella scrittrice che ti piace molto, e io, chi, nonna? La francese, come si chiama? Marguerite, come si chiama? Io, Jursenard? E lei, sì, Jursenard. E quindi, mi ha detto, è presbite. E io, ma no, nonna, non so se è presbite, non porta gli occhiali. No, no, è presbite, è presbite. Viveva con una donna. E allora, l'idea che mia nonna pensasse che l'omosessualità fosse in fondo, consistesse in fondo in un difetto di vista. Mi ha sempre molto rallegrato. E non lo giudicava, cioè, lo giudicava al pari della possibilità di un difetto di vista. Ci sono alcune persone che sono biopi, altre che sono astigmatiche, altre che sono omosessuali, altre che sono transgender, altre che sono presbiti. E questo, secondo me, in questo fraintendimento c'era ancora la possibilità di un incontro. Ecco, io penso che la presbiopia sia importante. E adesso che lo sono davvero diventata, vorrei dire, nonna, io sono orgogliosa di essere presbite.